Mister Lauro, ai nostri microfoni il Presidente ha evidenziato qualche cosa a livello tecnico-tattico che a lui non è scesa, soprattutto nelle scelte iniziali e nel corso della partita. Sì, vabbè, dopo parlare a fine partita è più facile, sicuramente abbiamo fatto una brutta prestazione indipendentemente dagli episodi che ci potevano essere a nostro favore, che non ci sono stati dati, però sicuramente l'Aquila ha fatto una partita superiore dal punto di vista anche agonistico perché comunque abbiamo perso tanti duelli dove loro sono stati molto più bravi e alla fine hanno meritato, secondo me, la vittoria. Sotto l'aspetto tecnico, Mister, si aspettava qualcosa di più. Essendo questa, credo, la partita decisiva fondamentale, poi ovviamente il calcio nasconde tante belle o brutte sorprese. Sì, sicuramente abbiamo sbagliato tanto, abbiamo avuto anche, secondo me, tanta paura di giocare questo, secondo me, è la cosa dove abbiamo sbagliato di più. Abbiamo verticalizzato tanto, siamo andati sempre in fuorigioco, dobbiamo tenere molto di più la palla, noi siamo una squadra che deve tenere palla perché la nostra qualità migliore è tenere palla e giocare nel momento in cui lo fai male o magari non lo fai, tra virgolette, dopo sicuramente la nostra caratteristica migliore non è sicuramente quella di correre dietro agli altri. Mister, se è sfuggito l'obiettivo, è sfuggito per la gara odierna o è sfuggito per un periodo negativo, no? Ricordo all'epoca con la San Benedettese lei era squalificato, se non erro, a più otto addirittura sull'Aquila e parlo del girone di andata. Ecco, un percorso accidentato, come mai? Sì, abbiamo lasciato dei punti per strada, sicuramente anche nel girone di andata dove secondo me qualche punto l'abbiamo lasciato, però è stato un percorso secondo me dove abbiamo tanto colpe nostre sicuramente, oltre ai meriti anche degli avversari che comunque stanno facendo un ottimo campionato. Oggi analizziamo questa partita qui, sicuramente una partita dove non abbiamo fatto obiettivamente una gran partita. Oltre alle parole del Presidente, sotto la curva cosa vi è stato detto? Immagino un invito a voltare pagina al più presto, tra l'altro domenica nel vostro straordinario Catino del Rivera delle Palme arriva la prima della classe. Sicuramente dobbiamo onorare ancora questo campionato, dobbiamo onorare ancora soprattutto questa maglia i nostri tifosi che anche oggi sono venuti in massa e dobbiamo rialzarci in fretta già dalla partita di domenica.